Musica Dal 7 al 10 novembre 2012 presso il Centro Congressi di Rimini si è svolta la sedicesima edizione di Ecomondo, fiera internazionale del recupero di materie ed energia e dedicata a raccontare il mondo dello sviluppo sostenibile. In concomitanza con l'evento anche un'altra manifestazione di grande interesse, la sesta edizione di Key Energy, dedicata a raccontare appunto il mondo dell'energia e della mobilità sostenibile. Si è parlato di compostaggio, biogas, cogenerazione, fotovoltaico, ma andiamo a conoscere il punto di vista degli imprenditori del settore. Exergy è un gruppo industriale Maccaferri, che è un gruppo storico italiano nato a fine 800 con le officine Maccaferri, che sono tuttora il core business del gruppo e che si occupano di ingegneria ambientale e prodotti per la protezione e la conversazione. della conservazione ambientale. Exergy fa parte del mondo di Sece Energia, che è la subholding energetica del gruppo, nata a seguito della volontà di riconvertire alcune delle attività industriali e agroindustriali del gruppo in attività energetiche e con lo sviluppo poi di altre attività energetiche nell'ambito, per esempio, del biogas, del fotovoltaico e altre centrali appunto di energia pulita. Exergy è una società che ha un focus tecnologico, quindi di prodotto. Abbiamo sviluppato una nostra tecnologia, la tecnologia della turbina radiale centrifuga o Outflow. È una tecnologia assolutamente innovativa, in quanto al mondo non esisteva nessuna turbina radiale Outflow applicata a cicli ORC. È stata sviluppata interamente all'azienda e interamente in Italia, con il supporto anche di alcuni centri di ricerca, università, soprattutto il Politecnico di Milano e poi insomma con un grande investimento da parte appunto del gruppo Maccaferri, che ha creduto in questo progetto e che oggi conta diciamo già alcune referenze su varie applicazioni, dalla biomassa al recupero calore industriale e alla geotermia. Quindi insomma ci stiamo muovendo su più campi di applicazione e con questo focus tecnologico di sviluppare un prodotto italiano, ma assolutamente competitivo e diciamo all'avanguardia sul mercato mondiale. Riteniamo che Key Energy sia l'evento dal punto di vista dell'energia rinnovabile più importante in Italia. Noi partecipiamo a moltissime fiere in giro per il mondo, sia in Europa che altrove, mentre io sono qui un mio collega in Sudafrica a parlare di geotermia e di recupero calore. Noi qui soprattutto vediamo il focus sulla biomassa con gli ultimi incentivi varati con il decreto di inizio luglio e in particolare vogliamo qui presentare il nostro prodotto, la soluzione diciamo che abbiamo sviluppato per gli impianti biomassa da 300 kilowatt che sono i più premiati da questo decreto e appunto questa soluzione diciamo è basata su dei concetti di semplificazione degli impianti e di conseguenza di riduzione dell'investimento e al tempo stesso di sostenibilità ambientale con l'utilizzo del calore di scarto della centrale e non soltanto la pura produzione elettrica che pur è remunerativa a suo modo. In questo modo sia un impianto che costa diciamo relativamente poco rispetto a quelle che erano le soluzioni fino ad oggi sul mercato e dall'altra parte ha un tempo di ritorno dell'investimento molto buono.